Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Le multe alle auto in sosta durante il funerale di Bigioricci scatenano la polemica, il comando di polizia precisa, ecco come sono andati i fatti La diocesi di Pesaro in lutto è morto improvvisamente Don Giorgio Giorgetti Il sacerdote è colpito da un infarto mentre andava in bicicletta Settimana di ferragosto i consigli della polizia per chi lascia la casa incustodita per andare in vacanza Tanti gli eventi in città in questi giorni, stasera la festa del Borgo Cavour con i piatti tipici della tradizione Domani a Torrete la festa mariana dedicata all'assunzione di Maria Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Benvenuti cari telespettatori di Fano TV a questa nuova edizione del nostro telegiornale Come già sapete sabato scorso a Fano nel quartiere San Lazzaro si sono svolti i funerali di Pierluigi Ricci Il cedetto Bigio, il bagnone di salvataggio che a Torrette è morto per salvare una famiglia in acqua Che si trovava in difficoltà Mentre era in corso nella chiesa della Gran Maria di Dio il funerale La polizia municipale, la polizia locale ha multato alcune auto in sosta La notizia ha fatto indignare il popolo dei social network Oggi è arrivata però la precisazione del comando di polizia locale E sentite come sono andati i fatti Per lo strascico di polemiche scaturito dopo alcune multe effettuate dalla polizia locale di Fano Durante i funerali del bagnino eroe per delle vetture parcheggiate in modo irregolare E che recavano in tralcio alla circolazione esplose sui social Dopo essere state riportate dalla carta stampata locale Pronta arriva la replica da pari del corpo di polizia municipale di Fano Vista l'entità delle contravvenzioni effettuate, solo due, di raffica si può parlare Ma solo per le polemiche quindi Il responsabile del corpo al momento, Alessandro Di Quirico, vice comandante Vicario Sottolinea oggi in una nota diffusa alla stampa Che le due autovetture moltate in via Bianchini, un senso unico tra l'altro Bloccavano completamente l'accesso ai residenti della zona I quali loro stessi, molto arrabbiati, hanno attivato gli agenti di servizio al funerale Vista la delicatezza della situazione, continua la nota Gli agenti hanno usato il massimo del buonsenso Cercando di rintracciare in vano però i proprietari dei veicoli E a quel punto, mezz'ora dopo, non hanno potuto far altro che sanzionare i due veicoli Per il gravissimo intralcio arrecato E quindi pensiamo solo a che cosa sarebbe potuto succedere Se nella strada fosse dovuto intervenire un mezzo di soccorso O addirittura del 118 per salvare una vita umana Allora, se siete in partenza per le vacanze e sapete già che lascerete la casa incustodita Forse è bene ascoltare qualche consiglio che adesso stiamo per darvi Grazie al dirigente Seretti della Polizia di Stato di Fano Il consiglio principale è quello sempre di fare riferimento a qualche persona fidata Che possa curare la casa e quindi possa anche monitorarla nel periodo di vacanza E quindi di assenza Questo è sicuramente il consiglio principale che mi sento di dare E' molto utile sia per i proprietari che si allontanano Ma anche per noi come forze di polizia Abbiamo un soggetto di riferimento in caso di nostro intervento In caso di persone sospette Dovessimo verificare alcune situazioni E quindi sempre che ci sia la possibilità per noi e anche per il proprietario Di avere un punto di riferimento nonostante l'assenza degli stessi Se poi queste persone fidate si regano nell'abitazione Il più possibile per verificare Per far vedere anche che la casa è frequentata Questo è sicuramente il consiglio principale E la misura più utile per tutti che si possa attuare Dopodiché naturalmente cercare di attrezzare l'abitazione Con un sistema di illuminazione nelle ore serali e notturne Che si attivi autonomamente Perché l'illuminazione è un deterrente forse il migliore che si possa avere E poi se la casa è molto isolata Naturalmente in quel caso bisognerebbe adottare dei sistemi di videosorveglianza Ma anche di sistemi di allarme sofisticati Che possano comunque sempre in contatto con i proprietari E comunque collegati con le forze di polizia Con il 112 e il 113 In maniera tale che noi possiamo intervenire nell'immediatezza in caso di emergenza Perché i vicini sono i principali occhi che guardano sull'abitazione Ma non solo, su tutta la strada Soprattutto in riferimento agli ingressi Quindi agli infissi e le finestre delle abitazioni Che sono meno visibili dalla strada principale Ecco, se c'è la possibilità di fare in modo che i vicini Possano monitorare il più possibile anche ingressi secondari O comunque non a vista, nascosti Sono i principali vie di entrata per i ladri nelle abitazioni Dove meno viste Dove si sente meno il rumore che provocano Ecco, questa è un'altra misura sicuramente molto utile Il controllo del territorio comunque da parte degli organi di polizia E voi, polizia di Stato In questo periodo, insomma, si alza Perché chiaramente siete coscienti di queste possibilità di reale Sì, molto utili però sono le segnalazioni Le segnalazioni ci indirizzano Quindi ci danno la possibilità di concretizzare al meglio il controllo Anche perché il territorio fanese comunque è molto vasto E quindi di fare in modo, insomma, di ottimizzare le risorse E anche i servizi che dobbiamo offrire Come è successo nel territorio, per esempio, di Bellocchi Nel recentissimo periodo Come è successo anche in altre zone residenziali della città Quindi più segnalazioni abbiamo E più riusciamo noi poi a indirizzarci E alcuni giorni fa la polizia di Fano Insieme ai carabinieri e alla polizia locale Ha allontanato dalla città Una cinquantina di persone di etnia Rom Arrivate a bordo di sei furgoni E che si erano posizionate abusivamente in via del bersaglio Il sindaco di Fano ha emesso un'ordinanza di sgombero ed allontanamento Per ragioni di igiene e sanità pubblica Subito applicata dalle forze dell'ordine A meno di 24 ore dall'arrivo della carovana Domani è Ferragosto Una giornata di festa Oggi siamo andati a chiedere un po' alle persone Come trascorreranno questa giornata del 15 agosto E soprattutto vedremo anche perché si chiama Ferragosto Il Ferragosto è una festività che affonda le sue radici nella Roma imperiale Quando era denominata Ferie Augusti Il riposo di Augusto In onore del primo imperatore Ottaviano Augusto Che dà anche il nome al mese in cui si celebra la festa Perché il popolo facesse una pausa alla fine del raccolto E festeggiasse per giorni e senza distinzione di classi sociali Nell'antica Roma era il momento della baldoria in strada Dei pali, della musica La ricorrenza fu poi assimilata nel VII secolo Dalla chiesa cattolica che dedicò il 15 di agosto All'assunzione di Maria Ma come si festeggia il Ferragosto? Nelle grandi città, musei aperti, concerti E tante occasioni per festeggiare e riposare Ma nelle città di mare come Fano Dove già si è in vacanza Che cosa si fa? Cosa fate a Ferragosto? Siamo del Belgio quindi... Fantastico Voi siete già in vacanza? Sì, sì, in ferie Come mai a Fano? Abbiamo la famiglia a Fano Quindi... Domani cosa farete? Al mare, sì Il mare, giornetto nel mare Ancora non si sa Amici? Sì, per spiscina Quindi picnic, bagno Esatto Gavettoni Sì, un po' di tutto Siete già in Vavue Siete già in vacanza? Sì Per voi a Ferragosto Sì Ma però ci sono più persone qui che fanno le vacanze Sì Ma per noi sono semplicemente vacanze Sì Come mai Fano? Ci piace Sì, veramente Bellissimo Anche il centro Anche la spiaggia Tutto bello Sì Davvero A Ferragosto andiamo al ristorante Ecco, quindi Un pranzo e un po' di tranquillità Esatto Mare? No, no Ma siamo in partenza Ah, ecco quindi È finita la vacanza a Fano Dove tornerete? A Palestrina, vicino a Roma Com'è andata questa vacanza? Bene, bene, bene Veloce ma intensa Spiaggia e cibo Ecco, quindi relax totale Ma sì, dai Siete di qua? No Siamo turisti Turisti, esatto Milano, zona Milano Sì, sì Come sta andando È andata la vacanza? Bene, molto bene Mi è piaciuto molto qua tra l'altro Molto Si sta bene Cosa si fa a Ferragosto? Mare Niente, mare, mare Mare Intanto da noi c'è solo il mare E quindi mare Ancora non lo sappiamo Decisione? Eh sì Da dove venite? Da Genova Vacanza qui? Sì, sì, sì Mare tutto al più No, io ho dei parenti qua in zona Ah, mi vengo qua Sì, sì, sì Cosa fate a Ferragosto? A Ferragosto cosa facciamo? Cosa fate a Ferragosto? Allora, pranzo nulla perché ci godiamo il mare Però domani sera una bella cena pugliese appunto A casa nostra In giardino con tutti gli amici In giardino con gli amici Quindi Massimo, relax In compagnia, in compagnia Domani saranno in tanti a trascorrere, come avete sentito, il Ferragosto in spiaggia Per garantire la sicurezza in quelle libere Oggi e domani nel tratto tra Larzilla e Gimara Sarà presente un presidio di salvataggio dell'Associazione Nazionale Salvamento Che opererà con due unità e un mezzo anfibio L'iniziativa nasce in collaborazione con la Guardia Costiera Che da anni durante il periodo estivo appunto presidia le spiagge Grazie all'operazione Mare Sicuro Dal mare al centro storico di Fano Dove questa sera c'è la festa del borgo Cavour Un appuntamento da non perdere Soprattutto per gli amanti dei piatti tipici fanesi Da due giorni in via Cavour a Fano si vive un'atmosfera d'altri tempi Un tuffo nel passato con ritmi e profumi di una Fano in bianco e nero Quando questo borgo era l'anima commerciale della città Oggi, secondo giorno della festa del borgo Cavour Organizzata dagli esercenti della strada Come avviene ormai da 22 anni a questa parte In effetti sono 22 anni che abbiamo iniziato E la facciamo tutti gli anni Coinvolta da tutti i commercianti Di allora che man mano sono cambiati Ma anche quest'anno hanno contribuito tutti E' una cosa piacevole insomma De coinvolgere anche tutto il nostro quartiere Anche per dare un po' alla città un po' di vita Bene, il menù è un menù insomma di quelli tradizionali Il menù tradizionale è sempre quello Da 22 anni con le cristiate coi fagioli La trippa, abbiamo le tagliatelle al ragù Rigorosamente fatte a mano dalla nostra ornella Gnocchi e tagliatelle Le piade farcite, tutte fatte da noi Le piade tutte tirate a mano, una per una Salumi e qui da noi Perché facciamo qui l'osteria Abbiamo anche la porchetta Dopo il successo di ieri dove migliaia di persone Hanno animato fino a tardanotte la strada Dopo aver assaggiato e degustato Le specialità gastronomiche Con i piatti della tradizione Si sono trastullate a suon di musica Oggi la seconda ed ultima serata In questo luogo così particolare della città Prima con trada San Leonardo e poi i piatlet A ricordo di quanti sono vissuti negli stradini Come tanti personaggi importanti della storia di Fano Dove il cibo ha il sapore del fatto in casa Ma prima di gustarsi un fumante piatto di tagliatelle Spazio anche ai più piccoli Con animazioni fatte ad hoc per loro E poi foto d'epoca a chiusura Il concerto finale dei Senso Unico Chi viene qui a Borgo Cavour per la festa Degusta pasta fatta a mano, rigorosamente a mano Stiamo vedendo le sfogline proprio in questo momento all'opera Sì, da stamattina alle 6 che abbiamo iniziato A rifare la pasta tutta fatta a mano come sempre E questa sera qui all'osteria Qui alla pastificia troverete lo stand gastronomico della festa Della festa del Borgo Cavour Dove potete gustare le mitiche tagliatelle fatte a mano qui dell'osteria Le cristalliate con i fagioli e i gnocchi al ragù Ecco, quindi insomma Quante uova avete fatto tra oggi e domani e ieri? Allora, quindi diciamo che è impossibile contare le uova Comunque ieri sera abbiamo avuto tantissima, tantissima gente Abbiamo finito tutto Stamattina ci siamo rimessi tutti con le mani in pasta A riprendere tutta la nostra attività Per rifar sì che stasera Accontentiamo tutta la gente che viene a trovarci Allora, naturalmente tu sei quella che porta avanti un po' tutto Però hai tante collaboratrici che ti danno una mano Senza le quali è difficile portare avanti il tutto Sì, diciamo sì, io sono la responsabile Però volevo dire che dietro me c'è una grandissima organizzazione Tutto lo staff a cui ha tanta esperienza e tanta collaborazione E questo dà il risultato Anche perché immagino che bisogna far fronte a tante cose anche dell'ultimo momento Quindi dovete essere molto svelti Sì, da ieri sera, da stanotte che ricuacciamo le patate Rompiamo, facciamo la piadina Quindi è stato un tour continuo Quindi lo staff ci vuole efficace e deve funzionare Alle mie spalle vedete lo splendido scenario del Santuario del Beato Sante Il 500esimo anniversario per ricordare il voto dei monbaroccesi Fatto appunto al Beato È stato un successo Migliaia di persone tra cui molti turisti hanno partecipato ogni giorno Agli eventi in programma 50 espositori, 60 figuranti in costume d'epoca Anche della Proloco di Monbaroccio In tutte queste quattro giornate intense e cariche di significato Oltre 100 volontari per una settimana Si sono stati impegnati tra preparativi e allestimenti Oltre che negli stand gastronomici Fitto il programma delle iniziative organizzate in collaborazione Con il Santuario del Beato Sante e del Comune Nella giornata di chiusura Presente anche il Vescovo di Pesaro Monsignor Piero Coccia E i numerosi frati Oltre al Presidente della provincia Tagliolini L'abbraccio tra il padre guardiano del convento Tommaso Fiorentini E il Presidente della Proloco Damiano Bartocetti Ha chiuso con successo questa manifestazione E vedete nell'immagine anche il Vice Presidente dell'Assemblea Legislativa Delle Marche Renato Claudio Minardi E' deceduto questa mattina Don Giorgio Giorgetti Stava andando in bicicletta in via Fazzi Nel centro storico di Pesaro Quando si è fermato perché non si sentiva bene Poi si è accasciato a terra Ed è morto colpito da un infarto Aveva compiuto da poco 70 anni Don Giorgio era nato a Fossombrone Il 9 giugno 1947 Ed era stato ordinato sacerdote Il 22 dicembre 1973 Aveva studiato nel seminario regionale di Fano Parroco della parrocchia dei Santi Cassiano e del Recleano Insolido delle parrocchie Santa Maria Assunta Cattedrale Santi Giacomo e Lucia San Giuseppe e Sant'Agostino Amministratore parrocchiale della parrocchia di Sant'Agostino Incaricato per l'Apostolato Biblico Direttore dell'Ufficio Pastorale Immigrati Per anni direttore anche della Caritas Diocesana di Pesaro Profondo conoscitore e docente Di Antico Testamento Di Ebraico e Greco Antico Aveva ideato anche le note conferenze Dal titolo Prendi e Mangia Per un confronto laico sulla parola Appassionato e competente collaboratore Del settimanale Nuovo Amico Già dai tempi del Vescovo Gaetano Michetti Martedì 15 quindi domani Solennità di Santa Maria Assunta In programma un rosario Il Santo Rosario nella parrocchia di San Cassiano L'inizio è alle ore 18 Mentre la data del funerale Verrà comunicata quanto prima Dall'Arcivescovo di Pesaro Monsignor Piero Coccia E domani a Torrette di Fano Si terrà una delle manifestazioni mariane Più partecipate in onore della Madonna Nella giorno della sua assunzione In cielo Cantate, pregate con noi Piccole romini nel cielo Martedì 15 agosto Quindi domani a Torrette di Fano Ritorna un appuntamento importante Per tanti fedeli Sì esatto Dopo dal 2000 È partita questa festa Dal 2004 In memoria di Gabriella Lambertini Che la ricordiamo sempre E siamo arrivati piano piano Al tredicesimo anno È svolta in spiaggia libera In via Stelle di Mare Il centro proprio di Torrette di Fano Ci saranno dei canti Poi ci saranno dei palloncini Che verranno gonfiati con l'elio Tutta la gente Scriverà il suo messaggio Alla Vergine Maria Di tutto ciò che vorranno esprimere O dire a lei E chiederle Poi ci saranno dei mazzi di fiori Dedicati alla Madonna Che verranno portati a largo Dai bagnini della zona E poi mandati in aria Il mazzo di fiori Devolto alla Madonna E in quell'attimo Che il mazzo di fiori Verrà lanciato in alto E il bouquet nel mare Verranno anche innalzati I palloncini Gridando Evviva Maria Tutto questo a che ora A che ora è l'appuntamento Con i fedeli E la partenza Si sarà Dalle 10 in poi Fino verso Mezzogiorno In circa Purtroppo non è potuto avvenire Quest'anno Che era tanto annunciato Roberto Bignoli Che è un cantante cristiano D'ispirazione cristiana Ed è un esponente principale Appunto della music Christian Della Christian music Scusate E praticamente per motivi di salute Non può essere presente Chiaramente noi intanto Lo salutiamo E gli auguriamo Una pronta guarigione Una pronta ripresa Speriamo di averlo magari in futuro Magari organizzando con lui Anche un bel concerto Io colgo l'occasione Per ringraziare Oltre che a tutti i collaboratori Quest'anno in modo particolare Al Vela Club di Marotta Nella figura del presidente Che il signor Casagrande Fabrizio E il vice presidente Tiziano Leonardi I quali Ci hanno garantito Domani Tempo permettendo Anche le condizioni del mare Di portarci Un piccolo segno mariano Che potremo ammirare Sul mare Ecco Che si è verificato Nel pomeriggio di oggi In Sassonia A Fano Non ci sono feriti Ma solo danni Ai mezzi coinvolti Allora Permettetemi di ringraziare Tutti voi Segnalatori Che ogni giorno Ci fornite Informazioni utili Per realizzare Poi il nostro Telegiornale E soprattutto Per poi Informare voi Telespettatori Quindi grazie Per la vostra Preziosissima collaborazione Vi facciamo vedere Adesso invece Il nostro numero Di telefono 338 4968 250 Attraverso Whatsapp Potete inviarci Anche qui Foto, video Oppure un semplice Messaggio di testo L'informazione Finisce qui Domani è ferragosto Non andremo in onda Ci rivedremo Il 16 Alle 20.30 Con il Telegiornale Occhio alla notizia Perché il 16 Mattina Alle 7.30 La rassegna stampa Non andrà in onda Perché i giornali Non saranno in edicola E allora Da parte mia De tutta la redazione Di Fano TV A voi tutti L'augurio Di un buon ferragosto Arrivederci Grazie a tutti